Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo aver fatto parte dei Timoria tra la seconda metà degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta, Renga ha intrapreso una prolifica carriera da solista, pubblicando nove album in studio, due dal vivo e tre raccolte. Nel 2005 ha trionfato alla 55esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Angelo e nel corso della carriera ha vinto due premi Lunezia per il valore musico-letterario. Nel 2002 con l'album Omonimo e nel 2019 con l'altra metà, il cantautore Francesco Renga, grande tifoso dell'Inter, ha voluto lasciare un messaggio ad André Onanà dopo il suo passaggio allo United. Allora André, ciao, siamo tutti dispiaciuti, ma sappiamo che hai amato la nostra Inter almeno quanto l'amiamo noi, quindi ti auguro tutto il bene possibile, le migliori cose. Ci mancherai tantissimo, ma grazie veramente per quello che hai fatto per la nostra Inter. Grazie, Unanismo sempre.